Dottore, posso rubarle qualche minuto in video? Sono un giornalista, mi chiamo Vanni Zanori, racconto su YouTube un giornale online, una radio e un sito Emiliano Romandese. Mi piaceva rubarle qualcosa in generale. Io racconto tanto le professioni, mi piacerebbe chiedere qualcosa sul mestiere di manager 1 e su qualcosa di energy legandolo dal dibattito. Mi piacerebbe. La testata qual è? Vanni Zanori.it, è un'attestata non è un blog, Radio Musichiere Scandiano è locale, una radio storica. Primopiano.net è un sito Emiliano Romandese. Mi piacerebbe, andiamo fuori. Ma non più di 5 minuti, Dottore. È come se davanti a me ci fosse Chico Testa, che ho conosciuto quando vinse lo Scudetto. Io spiritualmente sono un giornalista sportivo. Nel 2000 a Roma vinse lo Scudetto, come Piaggio. E credo di averlo anche visto, c'era Franco Berto, adesso i ricordi si sovrappongono. E quindi è un grande personaggio. E' come Scudetto di? Di Volei, di Pallavolo. No, no, no. Ed era, aspetti, erano Piaggio, Piaggio era lo sponsor, ma Chico Testa era il... Presidente. C'era il finanziario, insomma, il progetto patrimonio. Se posso...